Carlo Ancelotti è d'accordo, mentre il giocatore sprizza gioia da tutti i pori. La storia d'amore fra Beckham e Parigi potrebbe durare un altro anno. È una decisione che deve prendere la società d'accordo col giocatore e l'allenatore, ma lui è d'accordo. Beckham, infatti, doveva rimanere nel Paris Saint-Germain solo cinque mesi, ma lui ha sedotto l'ambiente conquistando il pubblico, i compagni di squadra e il suo presidente Nasser El-Khelaifi. Per Nasser Beckham è una certezza e deve restare assolutamente a Parigi anche l'anno prossimo. Titolare per due partite consecutive, in campo Beckham ha convinto gli scettici. A separare però lo Spice Boy da un'altra stagione nella Ville Lumière, per ora soltanto le questioni relative al suo salario, visto che al momento David Beckham non lo percepisce ed evolvendolo tutto in beneficenza. In caso di prolungamento del contratto, però, le cose potrebbero cambiare. Ma i parigini lo vogliono, visto che le sue magliette sono le più vendute e lui è il calciatore più amato sui social media di Francia. Il marchio Beckham fiorisce ancora a 37 anni e quindi c'è tempo per il pensionamento. C'è un gruppo che ha enormemente, enormemente di talento e sono molto felice.